Allo stato attuale, grazie All'informazione libera della rete, la classe politica è stata smascherata Oramai il popolo si è reso conto dell'esistenza della casta E punta ad entrare nelle istituzioni per esercitare la propria sovranità Così come sancifo dall'articolo 1 della Costituzione I partiti, ovvero i rappresentanti delle lobby che detengono il potere Consapevoli di stare per essere detronizzati, non vogliono mollare l'osso La casta non vuole cedere il potere a favore della sovranità popolare Ed è per questo che nei loro intenti c'è la volontà di trasformare l'Italia in una dittatura Una tirannia dove i cittadini saranno esclusi dall'attività politica La loro volontà è quella di vietare che la gente comune possa interessarsi di cosa avvenga all'interno del palazzo Le riforme, se andranno in questa direzione, porteranno ad una rivoluzione irruenta La linea da seguire per le riforme istituzionali deve essere esattamente opposta a quella proposta dalla casta Occorre imporre delle regole che obblighino i parlamentari ad essere dei delegati del popolo Bisogna implementare la regola che chi fa politica, nel qual caso tradisca il proprio elettorato Possa essere escluso immediatamente dalle istituzioni, perdendo il proprio incarico La riforma costituzionale dovrà attuare tutta una serie di meccanismi che vietino alla casta di fare politica I cittadini dovranno prendere le redini del paese Per fare questo occorre spezzare la propaganda politica falsa e menzognera protratta da televisioni e giornali Già l'internet ci sta riuscendo, ma questo non basta La classe politica si sta arroccando su se stessa e punta ad instaurare una dittatura Un sistema dove il voto dei cittadini sarà una semplice farsa E il tutto sarà avvallato da regole costituzionali completamente antidemocratiche ma all'apparenza giuste Vi stanno prendendo per i fondelli In questo momento occorre combattere affinché le riforme non avvantaggino ulteriormente la casta Ma favoriscano i cittadini con una forma di democrazia diretta Occorre abbattere la casta Occorre abbattere la casta